E queste vanno sulla barra quando vado con la cosa di Fortnite Niente, faccio la danza per Racker Merda Merda Racker lei è completamente Ora mi devi sciocchiare il cazzo La piccola madre quella brutta merda succhiatrice di cazzo lunghi due chilometri e prenditrice di cazzo Dentro di prepotenza Oh vai a fare in culo perchè mi hai già rotto il cazzo Ah vai a cagare infatti di Plasmon nel culo coglione Andiamo Adesso sono morto Perché la serapica Cristo di Dio Cristo Perfetto Perfetto Sì Sì vabbè ma minchia sono xyuder Cosa vuoi che mi vedano cazzo Oh Merda Sì 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 Secondone per me era un po' appuzzona questa cosa Sì 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 Vi albana Nessun ma non ti preoccupare andiamo a vedere il vaticazzo io bella tutti ragazzi sono qui in compagnia di un personaggio che conoscete sicuramente e non solo non è un caso insieme a me anche i nuovi un set in base delle magic espansione signore degli anelli come vedete ragazzi è uscito oggi e contiene i tuoi mazzi perfetti per iniziare a giocare se non siete tanto bravi o se volete avvicinarvi a questo mazzi vi invito a provarlo e a scoprire tutte le potenzialità e ovviamente a seguire la pagina di Magic Italia tu devi seguire non so perché parli ok preciso abbiamo un ritmo perfetto preciso abbiamo un ritmo e allora chiudimi sempre che cazzo ti devo dire ma parca traia le lunghe trecce gli occhi azzurri e poi le stemmi ancora più forti chillato col nuovo fucile assai auguro grandi morti col pam spammone chiuso dentro in casa non canti che se no mi metto a ridere e poi mi vuole fare l'acqua mi muto e senza bunker senza impulso no 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 anche impulso moriremo piano a questo li vado da dietro odio gran fortnite queste armi assai le lunghe season non mi sentite? non mi sentite? un secondo signori oh non ho detto questo gli arostichi ho detto un'altra cosa oh per favore le posine allora non posso farmi portare il camper all'aeroporto la fami sta dicendo uh 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 non so perché amore si amore porca troia raga brutta storia porca troia cazzo merda se mi leggi mi do alla chiesa se mi leggi mi do alla chiesa fermatevi a Perugia vi offro un caffè ma dove cazzo è Perugia innanzitutto non so neanche dove sia raga andiamo avanti ehi vabbè ridiamo dove devo andare sempre dritto non conosco ma cos'è? è il mercazio merda il mercazio noi vediamo il mercazio figa sembrava l'accampamento dei rom invece è un mercato che sia grazie per aver portato altri due marinai mea sorma ciao salvatore conte ma lui mangia così raga mangia così guarda ma tu cosa le minchia vuoi il limoncello? il mortaccio e non apri apri ah ma 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 che minchia hai fatto? non è fattibile non è apribile apri non è apribile non è fattibile si sta congelando la mano figa è a meno 18 gradi vedete? il caccia d'entra rimane il caccia d'entra rimane io non si può neanche rispondere a mia sorella a nessuno non si può rispondere per me non abbiamo la possibilità di c'è le minne sudate dai l'ultima ravanata dai l'ultima ravanata la ultima ravanata di minne veloce smettila smettila mannaggia non si può più toccare in questa in questa famiglia bravo così porco diaz neptuno cristo dio così cristo dio io ragazzi la salsiccia la adoro mi vedete ragazzi? grazie 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 grazie